buonasera a tutti e a tutte da andrea cartotto nuovo video corso nuovo video corso dedicato alle lavagne digitali e nuova puntata della playlist quindi della mia rubrica qui sul mio canale youtube trainer andrea dedicata appunto alle lavagne digitali draw chat quella che vediamo questa sera ecco il nome della risorsa nulla da installare si accede comodamente via web quindi basta una connessione ad internet ed un comune browser lo sapete io consiglio sempre google chrome e mozilla firefox per una ottimale compatibilità sito di riferimento draw.chat lo vediamo in alto nella barra degli indirizzi clicco al centro per cominciare e sembra una comune lavagna ma in realtà guardate a destra faccio un clic sul pulsante a forma di microfono e già avrete intuito qualcosa clicco sul pulsante a forma di telecamera e lo faccio per salutarvi ma in realtà quel che io ho fatto è attivare la mia visualizzazione appunto in video e il fatto di potermi far sentire per tutti coloro che saranno invitati su questa lavagna e quindi io non solo una chat testuale e lo vedete a destra qui in fondo type message io scrivo ciao premo invio e in realtà non badate a questo che copi è quello è un nickname cioè un soprannome che dà la lavagna il mio ciao arriva a tutti ma mi vedono e mi sentono possono fare lo stesso anche gli alunni ma io vi consiglio di usare sempre con grande moderazione la simultaneità e la sincronia in audio video dei ragazzi c'è meglio far allora accendere l'alunno che interrogo che interpello è molto più funzionale alla didattica bene come invito gli alunni a partecipare su questa lavagna guardate quanto è semplice scorro gli strumenti principali primo in alto a sinistra è un foglio con la freccia verso l'alto share condividi clic guardate chiunque abbia il link può modificare can edit o chiunque abbia il link può vedere sta a noi sta a noi come avete anche capito dunque questa lavagna non richiede a nessuno un indirizzo mail per essere utilizzata cioè non ci vuole nessun account io posso trasmettere ai miei alunni questo link quindi questo url questo indirizzo posso anche cliccare sotto la chiocciola inserire email o direttamente alla chiocciola per l'amore di dio per poterli invitare ma vedete quel bel qr code cioè quel quadrato strano che abbiamo lì a sinistra ecco io ho qui il mio smartphone ho aperto la fotocamera del mio smartphone sto inquadrando so che non mi vedete ma abbiate un secondo di pazienza il qr code ho un testo quindi ve lo mostro qui in camera opla eccomi che mi avvicino ti di testo vedete ho un link pronto ora io lo copio dentro il chrome del mio telefonino se voi utilizzate invece della fotocamera dello smartphone o tablet un lettore di qr code mi viene in mente ad esempio qr reader insomma ne trovate su play store o su app store nel momento in cui poi inserite questo link oppure ancora lo copiate ed incollate nella barra degli indirizzi guardate la facilità cerco di venire a favore di camera eccola la vedete ho la lavagna pronta ho la lavagna pronta quindi insomma il vantaggio come stiamo osservando e anche l'intuitività in qualche maniera dello strumento d'accordo adesso infatti se notate non siamo più uno ma siamo due perché k sono io e v prima non c'era insomma questa lettera è il nuovo utente che ha i miei stessi strumenti e può lavorare volendo con me guardate prendiamo proprio gli strumenti principali allora un clic sulla t di testo casella di testo per come la conosciamo posso cliccare arial e variare anche il font cioè il tipo di carattere vado a prendere un verdana che è un font inclusivo e ben leggibile questo cursore se spostato modifica lo spessore e la del tratto clicco sul colore o sulla gamma dei colori e modifico il colore di digitazione del testo poi guardate bene questa funzione la vedremo per tutti gli strumenti di draw chat quando le opzioni non mi servono più riclicco sulla t per farle sparire sono questi pulsanti un po funzionanti a moda interruttore un clic espande le opzioni un clic le comprime ora guardate tengo premuto il tasto sinistro lo tengo premuto per posizionare il mio testo siamo al centro e non vi fate ingannare sembra che sia sinistra ma comincio a digitare il movimento cubista appena clicco su uno strumento neutro ad esempio la manina che equivale a un puntatore c'è uno strumento che sposta ma non paciuga ecco non non crea disagio o sporcizia sulla nostra lavagna vedete che io sono tornato sul mio centro bene e se volessi sottolineare il movimento cubista o l'evidenziatore eccolo qui barra degli strumenti highlighter vedete che c'è un pennarello messo in orizzontale con la punta un pochino più spessa clic e ho spessore dell'evidenziatore colore dell'evidenziatore e adesso voilà il movimento cubista ecco la mia strisciata con il pennarello non mi servono più le opzioni riclicco sull'evidenziatore ok e poi se voglio uno strumento neutro la manina vedete quale sequenzialità nel nostro lavorare questo draw chat quindi questo strumento è alla portata anche di alunni dunque che non dispongano di un account email perché non chiede né a noi né a loro un account per accedere ora guardate e se volessi una immagine lo posso posso attuare questa modifica con draw chat sì guardate il pulsante per inserire le immagini è a destra della t un clic come si lavora tengo premuto il tasto sinistro del mouse e traccio quella che poi sarà l'area che ospiterà la mia immagine nonché la posizione lascio il tasto sinistro ve lo rimostro eccoci qua e mi viene chiesto da dove prelevare le immagini c'è già la cartellina dei download io clicco su un busto quindi una immagine a mezzo busto di pablo picasso che ho recuperato in questo caso da wikipedia l'enciclopedia libera clicco su apri qualche secondo ed ecco l'immagine cioè vedete anche la rapidità della esecuzione poi in realtà vi mostro anche che c'è il classico strumento pen matita o pen clic eccoci qua cursore da spostare con il tasto sinistro premuto questo è lo spessore della linea andiamo un po' a graduarlo e poi il colore eccoci qua magari prendiamo questa volta un rosso cosa dite lo clicco dalla gamma dei colori mi sposiziono quindi eccoci qua prendiamo un qua siamo su un amaranto vi direi quando le opzioni non mi servono più un clic sulla matita e adesso disegno una bella freccia perdonatemi perché l'ho tracciata con il mouse ma credo di rendere l'idea immaginate la naturalezza del lavoro con draw chat tramite tavoletta grafica o tramite una superficie touch ad esempio di un tablet vi dico anche lo smartphone io prima ve l'ho mostrato per prova appunto ce l'ho qui tra parentesi vi faccio vedere che tutto ciò che ho fatto è immediatamente sincronizzato ve lo metto a favore di camera eccomi qua per cui non ho fatto altro che riprendere il mio telefono vi devo dire la verità lo smartphone sappiamo che non è lo strumento migliore per fruire di uno strumento web o di una lezione sincrona però alla malparata sappiamo che lo possiamo fare commentiamo velocemente gli strumenti principali la freccia ricurva a sinistra è una nulla nulla l'ultima operazione effettuata d'accordo vi ho parlato della casella di testo del pulsante pen dell'evidenziatore della possibilità di inserire un'immagine se qualcosa non ci va genio abbiamo la gomma eccola qui e poi vi mostro più che altro perché ho una funzione nuova che non ho mai riscontrato in altre lavagne guardate sia per la scuola primaria che in altri contesti il pulsante mandala cosa servirà Andrea al pulsante mandala guardate un click posso naturalmente contrassegnare queste opzioni se voglio ora io ho contrassegnato rainbow arcobaleno vediamo un pochettino sposto con il tasto sinistro premuto questo interruttore per lo spessore del tratto scelgo un colore che potrebbe essere il verde tengo premuto e guardate modalità rainbow ecco che si forma un mandala e allora mi diventa più che una lavagna uno strumento di disegno creativo ho pasticciato troppo bene un click ancora sul pulsante mandala comprimo ciò che non mi serve un click su annulla freccina in alto e vado pian pianino chiaramente un movimento alla volta ricordate a eliminare con facilità ciò che avevo fatto ciò che avevo tracciato sulla lavagna posso anche esportare questa mia lavagna in formato immagine e vi mostro come guardiamo insieme primo pulsante ricordatevi share per condividere con destinatari secondo pulsante nuvoletta save non ve lo consiglio non vi fate confondere salva questa lavagna in una sorta di cloud di draw chat però trascuriamo terzo pulsante quello che ci occorre annuisco con la testa osservate export to png cioè esporta in un comune e di buona qualità formato per le immagini che è il png la nostra lavagna guardate un clic il nome qui sembra automatico andiamo avanti un clic su ok ma vi mostro che possiamo comunque cambiarlo da qui cioè in questa finestra che è quella di dialogo del sistema operativo io clicco download sì la lavagna la voglio salvata lì e poi digito lavagna cubismo 15 11 e poi clicco su salva comodo funzionale tutto in un'unica scheda del browser perché vi ricordo che sto utilizzando google chrome molto interessante ecco vi mostro anche qui a destra piccoli dettagli che ho il numero dei partecipanti due e nessuno con il lucchetto cioè nessuno visualizza ma sono tutti modificatori ok e questo a destra ve lo mostro con un clic ma ho riscontrato personalmente che su chrome talvolta anche su firefox non funziona bene sarebbe lo deduciamo dalla forma del pulsante il pulsante per andare ancor più a schermo intero vi dico la verità non ne sento più di tanto il bisogno ecco a vostra disposizione a nostra disposizione una lavagna un pochino diversa dal solito con questo plus cioè con questo elemento aggiuntivo della chat con i destinatari cioè gli alunni non solo testuale ma anche audio video e di fatto la possiamo usare dunque per una video lezione mando via intanto con x la barra che mi ricordava dove io avessi scaricato la lavagna vi mostro ancora e con questa funzione vi saluto che dove abbiamo il pulsante a forma di più new page con un clic siamo in grado di aggiungere un nuovo foglio ed abbiamo poi diversi fogli numerati su cui cliccare 1 2 noi eravamo lo vedete con un clic sull'1 anche quest'oggi vi ringrazio per l'ascolto e la visione del mio videocorso come d'abitudine e non me ne dimenticherò mai vi ringrazio per l'affetto e la stima con cui mi seguite e vi do già appuntamento al prossimo videocorso ciao ciao